il castellaccio un castello diroccato perenemente disabitato due vecchietti senza casa ormai la guerra è finita che fare andiamo noi lì ad abitare dietro il castello ci sono delle croci sono dei soldati caduti sembra sentire le loro voci ma i due vecchietti si fermano dove vanno con quel poco che hanno dio ha dato da vivere ancora per qualche anno i astenti e in miseria insieme a quei poveri soldati lo faranno li inviteremo a cena qualche sera ci terremo compagnia ci faremo raccontare come è stata la battaglia in cui persero la vita il bene più prezioso donato dal signore e a loro volta donato per la patria come un fiore